Duro colpo per il clan mafioso barese dei Strisciuglio. 40 sono finiti in manette al seguito di un blitz dei carabinieri del comando provinciale di Bari che sono riusciti a ricostruire anni di egemonia in vari settori dell'economia, primo fra tutti il settore edile locale. Documentate infiltrazioni nella tifoseria del baricalcio evidenziano il tentativo dei clan ad infiltrarsi anche all'interno dello stadio San Nicola. Confermato in queste indagini il ruolo chiave svolto dalle donne del clan che aggiornavano i capi in carcere sulle dinamiche di affiliazione riuscendo a far entrare nelle celle anche la droga. Il clan usava i loculi del cimitero per nascondere armi e munizioni, tra la merce anche una bomba a mano di tipo ananas capace di far saltare in area un'abitazione o anche un negozio. Grazie! Grazie!